E' polemica ad Andrea sulla presenza del sindaco Nicola Giorgino alla manifestazione per il no al referendum organizzata a Firenze dalla Lega Nord. Il primo a protestare è stato addirittura il segretario regionale di Forza Italia Luigi Vitali. Triste sorte quella dei segretari regionali dei partiti. Non contano nulla, non conoscono i territori, eppur di dar segnali che attestino la loro esistenza in vita. Ogni tanto intervengono con dichiarazioni che il più delle volte, al confronto con la realtà a cui si riferiscono, appaiono non solo improprie ma talvolta esilaranti. Vitali è in buona compagnia, basti ricordare le castronerie che escono dalla bocca del suo dirimpettaio del Partito Democratico Marco Lacarra, ogni volta che esprime quello che abbiamo definito un peto pensiero che riguardi la BAT. Ma veniamo ai fatti. Giorgino, avendo forse voglia di portare un bacione a Firenze, ha deciso di andare al raduno organizzato dalla Lega, ma aperto a tutte le forze politiche. Bene, pace all'anima sua. Ci è andato mettendosi la fascia tricolore, il che viene stigmatizzato con vehemenza, in una nota di progetto Andrea, lista Emiliano e fortunato sindaco di Andrea, che visti i risultati elettorali farebbe bene a cambiare il nome, infortunato mai sindaco di Andrea. Giorgino va da dove vuole ma senza fascia perché non rappresenta anche noi il succo della loro protesta, una presa di posizione condivisibile, se non fosse che quella dei sindaci con fascia tricolore a manifestazioni politiche ed elettorali, e una scorrettezza consolidata, praticata regolarmente anche da quelli del PD, specie quando devono andare a genuflettersi davanti a Renzi. Un modo di fare che, a differenza di chi si indigna a giorni alterni, ci disturba sempre. Ma torniamo a Vitale. Il segretario regionale di Forza Italia ha accusato Giorgino di aver partecipato a una manifestazione leghista, dando una sorta di endorsement al tentativo di Salvini di porsi alla guida della coalizione di centrodestra. Il sindaco ha replicato dicendo che tale manifestazione era aperta anche a Fratelli d'Italia e Forza Italia, tant'è che erano presenti diversi esponenti forzesti, da tutti alla Santanchè, fatti loro. Dove sta la contraddizione di Vitale e lo sproposito del suo intervento se confrontato alla realtà territoriale? Sta nel fatto che forse qualcuno è bene che riferisca ad Alice Salvini, che nella maggioranza di Giorgino è ben presente la lista Noi con Salvini, emanazione meridionale della Lega Nord, lista che ha fatto parte della coalizione di centrodestra sin dalla campagna elettorale e che ha eletto un consigliere che attualmente ne ha due, essendo passato in quel gruppo anche il transfuga a Micioscia, proveniente proprio da Forza Italia. Perché allora Giorgino non sarebbe dovuto andare a una manifestazione organizzata da un partito che fa parte della sua coalizione e della sua maggioranza? Il problema sta quindi a monte. I voti dei leghisti di Noi con Salvini o devono fare schifo sempre o non devono fare schifo mai. Se a Vitale non piacciono, coerentemente, chieda a Giorgino di estromettere tale partito dalla coalizione. E contesti l'ospitalità data ad europarlamentari del fronte nazionale della Le Pen, recentemente ospitati ad Andria con tanto di cena per 22 persone, oggetto di un servizio di striscia la notizia. Diversamente siamo di fronte alle solite dichiarazioni a convenienza, così tanto per dire una cosa, così come avviene anche per la carra, per sentirsi meno inutili e un po' più vivi.